Salve a tutti e benvenuti. Questa settimana Obiettivo Valsesia viene realizzato a Quarona, dove questa sera si terrà la rappresentazione del Venerdì Santo. Il Venerdì Santo di Quarona è l'unica rappresentazione di questo genere in provincia di Vercelli. È una rappresentazione che viene fatta da ben 31 anni, ma solo negli ultimi anni si è organizzata e perfezionata fino a raggiungere parecchie migliaia di persone che partecipano. Dobbiamo dire che ha una particolarità rispetto ad altre manifestazioni di questo genere, altre sacre rappresentazioni. In questo caso la parte religiosa è non solo parte integrante, ma forse preponderante tutta nella serata. ne parliamo con padre Matteo Borroni, che sarà colui che guiderà la manifestazione, la serata dal punto di vista religioso, e con Andrea Zanella, che è il presidente dell'Associazione Culturale Venerdì Santo. Iniziamo proprio con Andrea. Dicevo, 31esima serata, 31esima rappresentazione, in realtà poi negli ultimi anni è diventata più importante. È nata un po' per gioco, come ha detto. Sì, è nata un po' per scherzo, perché nel 1982 Ugo Zanella, che è attuale presidente onorario, e Giorgio Beltrametti si sono trovati qui a San Giovanni al monte inscenando un solo quadro della via Crucis, cioè il Cristo già crocifisso e morto in croce, dove la gente ha partecipato con un solo momento di preghiera. Era il primo anno dove oltretutto la chiesa qui di San Giovanni fu illuminata, perché non c'era tutto questo impianto di illuminazione. Poi forse neanche nella loro mente si pensava di arrivare... Di crescere così. Esattamente, fino al 2015, dove siamo arrivati a costituire una vera e propria associazione nel 2011 e ad avere dei riconoscimenti particolari, come a ottobre dello scorso anno, dove siamo rientrati in Europassione per l'Italia, che è un'associazione che racchiude 35 sodalizi sul territorio nazionale. E so che state per fare l'ingresso anche in quella europea, quindi l'Europassion con ben 80 sodalizi a livello europeo. Sì, speriamo di avere questo riconoscimento a luglio in occasione della Passione di Sordevolo, dove ci sarà appunto il convegno europeo e si spera che lo studio sulla nostra associazione sia terminato. Padre Matteo, lei è qui solo da due anni e questo del Venerdì Santo è uno dei momenti più importanti della religiosità. Insomma, la Pasqua nella nostra religione è un momento clou, si dice, più importante ancora del Natale. Viverla come la vivete qui a Quarona è un impegno, ma anche forse una soddisfazione per un parroco? Certamente, molto bella perché questa passione che viene vissuta non solo dagli attori che si preparano durante l'anno, ma da tutte le persone, piccoli e grandi. E dall'anno scorso ho voluto anche che già dalla Domenica delle Palme ci fossero i figuranti, ci fosse tutta la comunità che si preparasse in modo solenne per celebrare insieme questo momento. Quindi non è solo uno spettacolo che si vede, ma chi verrà a Quarona, e io mi auguro che vengano in tanti a vederla, è per pregare, per meditare, riflettere e poi fare questo cammino, questa salita a San Giovanni che è la nostra chiesa bella che abbiamo, il nostro bel San Giovanni. Ecco, il bel San Giovanni che qui alle nostre spalle è una chiesa del IV secolo, mi diceva, è una delle più antiche del territorio. Certo, è una chiesa molto antica e noi ci teniamo a far sì che venga conosciuta, venga visitata, perché è tutta frescata all'interno e quindi è un patrimonio che ci viene dal passato. Quindi noi non vogliamo essere semplicemente dei custodi, che è già importante, ma vogliamo anche far sì che altre persone possano venire, ammirare, sedersi anche qui in questo bel luogo, ammirare il creato e vedere questa religiosità che ha delle radici profonde e lontane, ma che porta... E' sempre attuale. E' sempre attuale, certo. Allora, la crescita di questa associazione e di questa rappresentazione, in tutti questi anni, insomma, avete dei bei costumi, come avete lavorato per riuscire a fare, insomma, questo salto di qualità? Innanzitutto ci siamo apposti degli obiettivi. Il primo è stato quello di costituirci come associazione e nel 2011 ci siamo riusciti. Poi man mano l'obiettivo era quello di migliorare nei costumi e ci siamo creati tutti i costumi fatti da noi. Ah, quindi lavorate voi per realizzarli. Esatto. Qualcosa ovviamente abbiamo acquistato, perché alcune, ad esempio l'armatura dei Romani, a parte qualcuna, siamo stati costretti ad acquistarla. Però, ad esempio, tutti i costumi degli apostoli, delle donne, anche quello di Gesù è stato fatto completamente da noi, un po' riprendendo quello che dice la storia, vedendo un po' di fotografie, film che sono trasmessi e un po' in base a quello che noi vediamo sui vari personaggi principali. Anche le scenografie è tutto materia del nostro sacco. Abbiamo imparato, anche se non siamo dei professionisti, a lavorare al polistirolo e abbiamo creato tutte le scenografie che poi questa sera potete ammirare. Quindi, insomma, mi par di capire che dietro a questa unica serata, tra l'altro la rappresentazione del Venerdì Santo di Querona, si svolge proprio il Venerdì Santo, non ci sono repliche e quindi se c'è mal tempo, insomma, si perde l'anno. Dietro, dicevo, a questa serata c'è quanto tempo, quanto lavoro? Un anno con l'altro. Noi, praticamente, siamo impegnati tutto l'anno con mettere sul piatto idee nuove e vedere di migliorare aspetti tecnici, anche solo migliorare le scenografie, e curarle. C'è uno staff che comunque lavora costantemente, periodicamente, almeno una volta alla settimana per poter mettere in atto la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo. Anche questa è una forma di preghiera, padre? Certamente, è una forma di preghiera comunitaria che vede coinvolte tante persone, piccoli e grandi, soprattutto nel momento dell'ascolto della Sacra Rappresentazione, ma anche nel momento della salita, ricitando anche il rosario ad agio ad agio, arrivando fino al momento della crocifissione, che è il momento, diciamo, clou, ma poi siamo aperti a quella che sarà la Ressurrezione, quindi vivremo anche quest'anno questo momento con la Corale Primavera, che animerà anche dal punto di vista liturgico. Ecco, questa è una novità, perché di solito, insomma, la Sacra Rappresentazione si ferma poi al momento della crocifissione, poi della deposizione di Gesù. Il fatto di introdurre questo quadro è, come dire, uno sguardo di speranza verso il futuro? Sicuramente, siamo stati un po' combattuti, ma alla fine abbiamo deciso di rappresentare la Ressurrezione, perché la Quaresima ci porta alla Pasqua di Gesù, alla Ressurrezione, quindi è un messaggio di speranza per tutti quelli che verranno e pregheranno con noi. E questo è molto importante, insomma, in questi tempi la speranza bisogna tenersela ben stretta. E dal punto di vista invece della recitazione, avete, anche in questo caso, siete autodidatti oppure avete dei maestri? Come vi siete mossi? Siamo partiti ad essere autodidatti. Poi abbiamo trovato in Anna Rosa Fila Robattino, una regista che lo fa per hobby, una figura che ci ha guidato nelle prove, anche nella stesura soprattutto del copione, che era forse la parte più complicata. Ora, tutte le settimane, abbiamo un appuntamento alla sera e ci troviamo puntualmente per provare e riprovare anche le scene che vengono meno bene. E questo, insomma, è anche questo, penso sia un lavoro importante. Raccontiamo, insomma, alle persone che ci seguono come si svolgerà allora la serata. Quindi l'appuntamento è in centro a Quarona alle otto e mezza. Sì, l'appuntamento è verso il parco dell'asilo Zuccone alle otto e mezza. Da quel parco saranno allestiti due palchi dove verranno recitate le scene dell'ultima cena, dell'orto degli olivi, del tradimento di Giuda e della cattura di Gesù. Il Gesù, diciamo così, catturato, viene portato poi in Piazza Libertà, che è proprio dietro all'asilo Zuccone. Dove ci sono le scuole. Dove ci sono le scuole elementari, esatto. Lì verranno costruiti altri palchi dove ci saranno i processi dei sommi sacerdoti Anna e Caifa, il processo di Pilato, la fustigazione e poi la condanna a morte con il caricamento della croce a Gesù. A quel punto il Cristo caricato inizia la sua salita al Calvario con una fiaccolata che dal centro paese arriverà presso la vecchia monatiera fino a qui alla chiesa di San Giovanni. Quindi è anche un momento molto suggestivo, oltre che molto intenso dal punto di vista religioso. E poi qui a San Giovanni si svolgeranno gli ultimi quadri. Sì, ci sarà un momento di preghiere all'interno della chiesa dove funge un po' da collante tra le scene in paese e l'ingresso delle scene qui al San Giovanni, anche per riprendere un po' il raccoglimento che si era creato sotto. Qui poi verranno appunto recitate forse le parti più importanti della passione, appunto con la scena della Veronica che asciuga il volto di Gesù, la crocifissione, la morte in croce, la deposizione nel sepolcro e per finire la risurrezione. Senta, mi è capitato altre volte insomma di parlare con gli attori e di sentirmi dire che c'è una forte identificazione con il personaggio che le rappresentano. Lei questa sera sarà Gesù. Lo vive intensamente questo momento? E' emozionante, è emozionante perché soprattutto quando si sale sul palco si fa una carrellata di quello che si è passato durante l'anno, tra le discussioni che si hanno giustamente in un'associazione, tra i momenti di fatica e poi sapere che comunque è stato un tramandarsi il mio ruolo, perché prima lo faceva mio papà e quindi è stato insomma un po'... Anche questo è un classico devo dire. Sì è un classico, ma l'hanno già detto in tanti sì. Quindi è emozionante. In più mi dico, io non me ne accorgo relativamente perché la vivo forse diversamente la passione, però mi dicono che, soprattutto i personaggi che mi devono catturare, mi devono insomma far girare un po' per i palchi e mi dicono che entro proprio nella parte, cioè sembrano che vado in una trance teatrale che... Quindi sono vive con grande intensità. Sì, da parte mia sì. Ci sono coinvolti in questa rappresentazione ben circa una cinquantina di personaggi, alcuni dei quali sono insomma quelli più conosciuti. Adesso io vado a incontrarli. Per esempio, Pietro, allora Omar Albertino. Anche lei ha un ruolo insomma mica da poco. Sì, abbastanza decisamente importante. Ho vissuto in maniera comunque molto particolare. Uno per l'amicizia che ho giustamente anche con il nostro Gesù. E devo dire che mi piace, me la sono quasi scelta. e ci tengo particolarmente. A volte riesco, mi impappino un po' nelle prove e tutto, però diciamo che mi emoziona tantissimo. Nella serata, poi vabbè, stasera chi lo vedrà... Lo percepirà. Sì. Benissimo. Allora, poi c'è la figura, insomma, quella che è sempre la più, forse difficile da rappresentare per la negatività del personaggio, ma anche molto intensa, Giuda. Giuda che è Tonino Bifano. Tonino, la chiamano Giuda in paese? Ma alcuni sì. Anche al bar, così scherzando, alcuni mi chiamano Giuda. Per me è una parte, come diceva Pietro, molto importante perché è una parte sofferente, nel senso che io soffro a fare questa parte perché praticamente è la parte del traditore che a me è dà molta sofferenza. Comunque è una parte che sento mia perché ormai da cinque anni che interpreto, dopo essere stato a posto uno degli apostoli, ora faccio Giuda e me la sento mia. E quindi anche lei la vive interiormente questa serata? Sì, sì, senz'altro. Allora, adesso andiamo a conoscere, mi metto in mezzo, insomma, abbiamo il capo delle guardie romane che è anche il presidente onorario dell'Associazione Culturale Ex Gesù. È più difficile fare Gesù o il capo delle guardie? Beh, molto, molto, cioè fare il capo delle guardie è una cosa molto spartana, anzi molto romana. E fare Gesù, poi lei sta intervistando una persona che le ha vissute tutte. Io ho fatto l'infanzia qui, conosco ogni angolo di questo posto, questo è il luogo di preghiera. Ed è nata come una vera e propria preghiera vissuta. Sono contento di avere seminato bene, perché mi sembra che i frutti si stanno raccogliendo adesso. I ragazzi sono molto giovani e penso che, insomma, il futuro è spalancato a noi. E questa è una cosa molto bella che ha detto. Giovanissimo il nostro Ponzo Pilato, Simone Cipolla. Anche il tuo ruolo è importante, sei molto giovane. Come senti, insomma, sulle tue spalle la responsabilità di questo ruolo? Eh, la sento abbastanza pesante anche perché all'inizio c'è stato un altro Pilato che ha lasciato il segno. Dovrai essere all'altezza. No, devo essere meglio, se no torna. Quando abbiamo deciso di rienterpretare la rappresentazione parlando, proprio recitando, c'era questo ruolo vacante e ho deciso subito di farmi avanti e di diventare Ponzo Pilato per la rappresentazione di Cuarona. Ci tengo particolarmente perché io proprio mi entro nella parte, ma tantissimo. Cerco di interagire anche con il pubblico, poi ho una parte che si rivolge proprio alle persone, quindi mi piace. Benissimo. Allora, buon lavoro a tutti voi per questa sera. Io torno per i saluti finali tra Don Matteo e Andrea. Allora, l'appuntamento lo diamo assolutamente a questa sera. A voi buon lavoro. Grazie. E ci vediamo poi per il prossimo Venerdì Santo, il prossimo anno. Sicuramente che sarà verso la fine di marzo. La data me la scordo, ma è verso la fine di marzo. Invece a lei, padre, chiedo insomma un messaggio per questa Pasqua, questo mondo così travagliato e così difficile. Cerchiamo di viverla bene. Certo. Meditando e guardando a Gesù e lasciandoci guardare da Lui, perché da quella croce il Signore giudica il mondo e sappiamo che il giudizio di Dio è sempre un giudizio di bontà e di misericordia e si aspetta da noi però una risposta che sia positiva, sia bella e quindi l'augurio è di lasciarci coinvolgere tutti insieme dal Signore. E con queste belle parole di padre Matteo io ringrazio tutti i nostri ospiti di questa giornata e auguro a tutti voi una buona Pasqua. Arrivederci alla prossima puntata di Obiettivo Valsesi.